Alleluia! Dio è buono! Amen! Siamo felici di essere qui questa mattina. La sua presenza è qui, è quello che rallegra il nostro cuore. Vogliamo essere ravvivati dal Signore, ravvivati nel nostro Spirito e rinnovati nel nostro uomo interiore. Questo è quello che vogliamo noi questa mattina. Con voi questa mattina vorrei un po' prendere spunto da un po' di notizie che credo un po' tutti voi avete sentito, abbiamo sentito un po', abbiamo tanto da imparare dalla parola di Dio sicuramente, ma anche da quello che sentiamo magari le notizie di ogni giorno. Non so, quanti di voi avete sentito di questo batiscavo sommergibile, Titan, Titan, avete un po' sentito tutti quanti? La storia è umanamente triste e ci dispiace per quello che è successo. C'è sempre una perdita per cui sicuramente ci uniamo al dolore dei familiari, però possiamo trarre tanto spunto di riflessione da quello che è successo. Cos'è che ci racconta questa storia? Di un sommergibile, un batiscafo che doveva scendere a delle profondità elevate, circa 3500 metri sotto il livello del mare, per andare a vedere il Titanic. Sapete tutti questa storia, no? Ora, il problema che qual è? Il problema è che ovviamente aveva già provato questo viaggio e più di una volta c'era riuscito, solamente questa volta è andata male, ci dispiace come ho detto prima. Però che cos'è che è successo? Scende a delle profondità così elevate che la pressione che subisce questo sommergibile è così forte a un certo punto da non resistere e da implodere su se stessi. Questo è quello che è successo. 3500 metri, considerate che ogni metro, ogni 10 metri è un'atmosfera di pressione, immaginate quale sia stata la pressione su questa struttura. Considerate circa un metro quadrato, la pressione che hanno subito per metro quadrato era pari a 2000 macchine sulla loro testa. Ora io non vi voglio fare spaventare, non è questo il mio, però vorrei che questa mattina potessimo prendere spunto da questo. La pressione che ha subito. Dice che in una frazione di secondo, in un millesimo di secondo, sono stati totalmente distrutti. Perché la velocità di implosione è pari a circa quelle profondità a 800 chilometri orari. E tu ti dai, fratello Umberto, ma dove puoi arrivare questa mattina? Cari, la Bibbia dice che noi non siamo di questo mondo, ma siamo in questo mondo. E la pressione che questo mondo vuole esercitare sulle nostre vite è molto forte. E se non alimentiamo quella fiamma potremmo correre il rischio di essere schiacciati, sentire forte quella pressione sulle nostre vite. E allora, prendiamo Ebrei capitolo 12, 1 e 3. Ci siete? Amen. Ebrei capitolo 12. Del verso 1 al verso 3. Il loro obiettivo, mentre voi lo prendete, qual era? Era quello di raggiungere il Titanic e di andarlo a vedere, di andarlo a esplorare. Lo raggiungono? No. Non raggiungono l'obiettivo. E vi è una grande perdita, cari. Ebrei 1, 2. Scusate, dall'1 al 3. Ebrei capitolo 12, 1 e 3. Anche noi, dunque, essendo circondati da una tale nuvole di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre e torno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé, da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Sopportò una tale opposizione, sopportò una tale pressione contro di lui. Allora, cari, qual è il punto questa mattina? Cristo sopportò una pressione fortissima, una pressione così forte che non passò altre volte nella sua vita, passò altre forme di pressione, ma quella pressione per la sua vita, quel giorno della morte, fu il massimo della pressione che gli subì. E allora, cari, andiamo un po' a parlare, cos'è che succede, cari, sul punto di morte? Quello che c'è nel nostro cuore, cari, in quel giorno esce allo scoperto. Quello che c'è nel nostro cuore, cari, in genere, quando noi siamo sotto pressione, esce. Esce fuori. Ciò che vi è, o buono o male che c'è, ciò che c'è nel nostro cuore, esce, perché c'è una pressione che viene esercitata sulle nostre vite. E in quel giorno, il giorno del Golgoth, il giorno della croce, uscì ciò che vi era dal cuore di Gesù. Quella pressione che subì, egli la sopportò. E agì ubbidendo la volontà del Padre, in ogni cosa. E tu quando sei sotto pressione, io quando sono sotto pressione, dal nostro cuore deve uscire ciò che Dio ha posto nel nostro cuore. Grazia, misericordia, il carattere di Cristo che si forma in noi, formato in noi. Quello ci permetterà di resistere e di sopportare la pressione. La pressione delle prove, la pressione delle tentazioni. Ma perché Cristo è formato in noi. Amen? Bene. Gesù in quel giorno ebbe la massima pressione. Raggiunse l'obiettivo dell'ubbidienza al Padre. L'obiettivo dell'ubbidienza al Padre. Ma guardiamo un po' cos'è che fece Gesù sulla croce. Egli aveva una chiamata, un obiettivo. Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha unto per salvare, per regare la buona novella. Ed egli era ripieno di Spirito Santo. Come la nostra vita, cari, noi abbiamo lo Spirito Santo. Per cui noi possiamo, dall'esempio di Cristo, poter avere un esempio, ma un esempio da vivere. Quando noi siamo sotto pressione. E cari, non potremmo superare la prova della pressione. Se prima non abbiamo fatto ciò che Cristo ha fatto. Cristo ha superato quella prova della pressione sulla sua vita. L'ha sopportata perché Cristo faceva delle cose ogni giorno. Quel giorno fu un giorno straordinario per la vita di Cristo. Ma vienono degli altri giorni in cui lui faceva delle cose. Ci arriviamo. Ma Gesù era lì sulla croce appeso. E cos'è che fa? Egli salva, giusto? Egli è morto sulla croce per dare la sua vita come prezzo di scatto per noi. Per cui era nella salvezza. E in quel momento di pressione lui, mentre veniva, era stato già flagellato, sputato, schernito. Era appeso al legno della croce. E noi questo lo sappiamo. Nel momento di pressione lui avrebbe voluto dire Sto morendo. Non faccio più niente. Già sto morendo. Già sto facendo quello che si deve fare. Però non fu così che si comportò. Cos'è che fece Gesù? Egli continuò a salvare. Anche quando era sotto pressione. Il ladrone, che noi chiamiamo spesso il ladrone buono, vide Gesù in quel momento sotto pressione nella vita di Gesù, nei suoi pensieri, nel suo cuore, aveva quella lucidità da salvare. Da salvare. Io spero che quando tu sei sotto pressione e la vita un po' vuole far sentire la pressione attraverso la prova, le tentazioni, tu non dici, vabbè, ora penso solo a me, gli altri non ci sono più. Ma che tu sei sempre pronto a predicare il Vangelo agli altri. Amen? Cristo ci ha dato un esempio in questo. E lo ha dato un esempio. Ora tu puoi dire, vabbè, bravo, era il figlio di Dio, era il figlio di Dio. La Bibbia dice che Gesù è vero Dio, è vero uomo. E come tale, come vero uomo, egli ha dato un esempio a noi che siamo uomini e che siamo figli suoi. Perciò se egli lo ha fatto, noi che siamo suoi, possiamo farlo. Per la grazia di Dio. Perché la Bibbia dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen? Bene. E allora la salvezza di coloro che credono in lui, ma anche la salvezza del ladrone. C'era un pieno adempimento della chiamata di Dio. Quando sei sotto pressione, tu rimani al centro della sua volontà, lo stesso. Non fuggi né a destra, né a sinistra, né ti prendi pause. Tu rimani al centro della volontà di Dio. Ed è quella di predicare il Vangelo. Perché questa è la chiamata che Dio ha posto sulla tua vita. Beh, sicuramente c'erano gli insulti e offese. Insulti ed offese. Chissà quanti si beffavano di Gesù in quel momento. Chissà magari noi sotto pressione, quando siamo nel periodo un po' particolare, no? Se qualcuno ci insulta o ci offende, se diciamo noi stessi, aspetta. Aspetta un attimo. Aspetta. Apro una parentesi, ti do una lezione e poi richiudo la parentesi e proseguo nel mio cammino cristiano. Spero che non sia questo il nostro modo di agire in Cristo. Cristo non fece così. Dice come pecora muta davanti ai suoi tosatori. Come pecora muta. Lui che poteva rispondere. Il figlio di Dio ci ha dato un esempio d'amore, di autocontrollo, di pace nel suo cuore. Sapete cosa che effetto ebbe in quel momento? Sapete, quando veniva ucciso un uomo, i soldati romani erano lì sotto ed erano abituati a vedere i crocifissi. E in quei momenti, ciò che vi era nel cuore dei crocifissi, usciva. C'è chi bestemmiava Dio, c'è chi insultava gli altri, c'è chi malediceva il Signore, c'è chi malediceva gli stessi soldati tanto che erano già per loro appesi alla croce. Ma Gesù non fa nulla di tutto questo sotto pressione. Quello che c'è nel suo cuore esce. E c'è amore, c'è grazia, c'è misericordia. Talmente forte che il centurione là sotto dove dire qua mi stona qualcosa. Perché questo non maledice? Perché questo non risponde agli insulti? Cos'è che ha di diverso? Veramente, costui era figlio di Dio. Quando siamo nella prova, cari, gli altri ci osservano e vedono se qualcosa stona col ritmo di questo mondo. Vedono se c'è qualcosa che stona. Stona per gli uomini che non conoscono il Signore. Ma è una dolce musica per il nostro Padre. Un profumo d'odor soave. E lì dà testimonianza. Nella prova, lui rimane lucido. E quello che c'è nel suo cuore esce. Con maggiore forza. Con maggiore intensità. Veramente, costui era il figlio di Dio. Poi dice, spartirono le vesti e tirarono a sorte la tunica. Io spero che quando sei nella prova e sotto pressione, non inizi a guardare solo te stesso. Ma sei generoso. Ma sei generoso. Continua ad essere generoso nel dare. Continua ad essere un esempio nel dare amore. Gesù non trattenne nulla per sé in quel momento. Hanno spartito le vesti, tirato a sorte la tunica. Se qualcuno vuole la tunica, dagli anche il mantello. Quando siamo sotto pressione, dobbiamo continuare a dare. A dare a Dio e a dare agli altri. Con la grazia e la misericordia che viene dal Signore. Con la grazia e la misericordia che viene dal Signore. E c'è, fratelli, che alle volte quando siamo nella prova, guarda, non so se vi ricordate Gesù. A un certo punto fa delle cose lì sulla croce. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Non tralascia nulla al Signore. Anche durante la prova e la pressione, Lui si prende cura della sua famiglia. Di sua madre. Quando siamo sotto la prova, Dio ci dà quella grazia di sostenere la nostra famiglia. E di prenderci cura di quanti sono accanto a noi. Forse dici, hai proprio il bisogno in cui avrei bisogno di delle attenzioni di tutti quanti attorno a me. Vai ai piedi della croce. Vai invece ai piedi della croce. E a ricevere da Cristo quella forza per fare ciò che devi fare. Per essere un incoraggiamento e un sostegno per la tua famiglia, per non tralasciare nulla. Dice che alla fine ebbe sete. Fu l'ultima cosa che gli fece. Disse. No, non fu l'ultima, fu la penultima. E gli diedero dell'aceto. I suoi bisogni prima gli altri, poi il suo bisogno. Cari, noi abbiamo accettato Cristo perché Cristo rimanga al centro della nostra vita. L'umanesimo poneva l'uomo al centro. E spesso alle volte abbiamo anche noi la tendenza a metterci al centro. Mentre deve essere sempre Cristo che rimane al centro. Cristo che rimane al centro la sua sposa che rimane al centro la chiesa. Anche quando sei sotto pressione devi continuare a servire la sposa la chiesa e non tirarti indietro dal servizio. Perché? Perché questo formerà il tuo carattere e ti plasmerà il Signore stesso. Bene, e poi cos'è che disse? Tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Io credo che ognuno di noi vuole compiere ogni cosa. Amen? Vogliamo fare tutto nel giusto modo. Ma lo dobbiamo fare con la grazia di Dio, con la misericordia e secondo i piani di Dio. Anche quando siamo sotto pressione. Voglio leggere con voi le versi in Efesini al capitolo 6. Prendetelo. Efesini capitolo 6. Dice del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Un attimo, fortificatevi. Ora lo continuiamo. Com'è che Gesù poteva affrontare quel giorno? Qual'era la vita di Gesù gli altri giorni? Si alzava presto la mattina e cercava la faccia del Padre. Stava in comunione col Padre. Meditava la parola. preghiera e parola. Tu non potrai resistere alla pressione che avviene in un giorno nella tua vita se ogni giorno non disciplini la tua vita nella preghiera e nella parola. Non puoi. Non è fattibile. Ma se noi ci discipliniamo nella preghiera e nella parola ora non sto dicendo che se per un giorno non preghi non leggi fallirai la parola non sto dicendo nulla di questo però deve diventare parte integrante del nostro stile di vita. Lo stile di vita di Gesù era questo. Preghiere e parola. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere come? Ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro principati contro le potestà contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio prendi l'intera armatura di Dio prendila ogni giorno abbi intimità con Dio comunione con lo Spirito Santo parla con Dio e lasciati parlare fortificati nel Signore nella tua cameretta e vedrai come durante la prova la affronterai e la vincerai col Signore per restare finché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto ogni cosa tutto è compiuto dopo aver compiuto ogni cosa state dunque ritti avendo i lombi la cintura della verità rivestitevi con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo quanto era pronto Gesù a parlare dell'Evangelo anche sulla croce oltre tutto ciò prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i tardi infuocati del maligno prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dell'ospito che è la parola di Dio che è la parola di Dio leggi la parola mediti medita la parola pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito cos'è che ci accorgiamo? preghiera e parola preghiera e parola è il tuo stile di vita? io spero di sì io credo di sì perché è lo stile di vita del nostro Signore lasciamoci fortificare cari dal Signore lasciamoci fortificare dal Signore vogliamo prendere secondo Corinzi mentre ci avviamo alla conclusione secondo Corinzi capitolo 4 e ci accorgeremo che anche attraverso le prove e le afflizioni il Signore lavora il nostro cuore capitolo 4 verso 16 dice perciò non ci perdiamo d'animo non ti perdere d'animo ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina quello interiore si rinnova giorno in giorno infatti la nostra leggera afflizione che è solo per un momento produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono perché le cose che si vedono sono per un tempo ma quelle che non si vedono sono eterne avendo gli occhi fissi su Gesù cari mentre ci alziamo in piedi avendo gli occhi fissi su Gesù è scritto in ebrei per la gioia che gli era posta davanti la gioia di Cristo siamo noi avendo lo sguardo fisso a Gesù cari avendo lo sguardo fisso a Gesù attraverso la preghiera alla parola noi possiamo vivere e viviamo la vita di Cristo in noi è quel suo esempio che egli ci ha dato noi lo viviamo vinciamo sulle prove sulle tentazioni e nelle prove e nelle tentazioni gli altri vedranno Cristo in noi vedranno Cristo in noi e si chiederanno ma cosa c'è in loro cari nella prova loro vedono ciò che è nascosto ai loro occhi ciò che c'è nel nostro cuore loro lo possono vedere perché la prova e le difficoltà lo fa uscire fuori e veramente potranno dire questi sono figli di Dio perché vivono in un modo soprannaturale e riescono a sopportare il peso e la pressione di questo mondo parlatemi di Gesù parlatemi di Gesù è il Dio della di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù dopo che avete sofferto per un tempo vi renda gli stessi perfetti vi renda fermi vi fortifichi e vi stabilisca saldamente a Lui sia la gloria è il dominio dei secoli e dei secoli Cristo in noi Cristo in noi Cristo in noi nelle prove e nelle difficoltà per emanare quel profumo di Cristo che gli altri possano sentire affinché il carattere di Cristo sia formato in noi mentre il gruppo musicale ci guida in un cantico ognuno di noi consideri come vive la propria vita quando è nella prova o nella tentazione Alleluia come viviamo ogni giorno qual è la vita di ogni giorno Alleluia Alleluia Alleluia